Benvenuti al video Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Damage 7 V-Box Damage 7 Gamer Gaming PC Multimedia Specifiche elevate Desktop PC USB 3.0 Computer con 64 bit Windows 8.1 3.9 GHz AMD FX 6356 Core Processor 16 Gran Bretagna Off-DDR3 1600 MHz RAM 1000 Gran Bretagna Hard Disk Spazio di Archiviazione NVIDIA GeForce GTX 762 Gran Bretagna Dedicato avanzata scheda grafica Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione